Chiedo adesso di passare il microfono al generale Antonio Distasio, comandante generale della legione Carabinieri Piemonte-Valle d'Aosta. Buonasera a tutti, eccellenza, signor Sindaco, assessore, grazie veramente di cuore di essere qui, signori primi cittadini, colleghi. È un grande onore poter parlare oggi dei nostri eroi e purtroppo dobbiamo anche pensare che una ferita che lascia a noi dell'arma una cicatrice difficilmente che possa comunque guarire, soprattutto quando il ricordo dopo vent'anni è ancora così forte. Noi usiamo un binomio espositivo quando semplice, come ha detto lei, è vero, è una cerimonia semplice ma noi diciamo semplice nella forma ma profonda nel significato. Credo che in queste immagini si sia racchiuso tutto, non solo i valori di un'istituzione come l'arma ma soprattutto la spinta di uno Stato o di nazioni per difendere e portare la democrazia in luoghi lontani da noi ma dove le condizioni di vita sono totalmente differenti. E allora io quando guardo queste immagini ricordo una poesia di Ungaretti molto semplice e quando penso così ai miei carabinieri che pattugliano le strade qui nel territorio piemontese ma anche tutti i carabinieri in Italia o all'estero, allora c'è questa immagine molto forte che Ungaretti fa dei soldati in trincea e dice che stanno sugli alberi come d'autunno le foglie. Un senso di caducità, di finitezza e in questa nostra limitatezza, in questa nostra fragilità ci sentiamo sicuramente forti nel difendere quelli che sono i valori della nostra democrazia, non solo in patria ma anche e soprattutto all'estero. Dopo l'Iraq io sono stato destinato all'ufficio piani e polizia militare che è l'ufficio del comando generale che pianifica peraltro in una di queste sezioni e io ero proprio alla prima sezione di questo ufficio che pianificava le missioni internazionali. Quindi sono partito da una strage, da un episodio che richiedeva molta meditazione e quindi molto impegno perché chiuso l'Iraq dovevamo poi cominciare in Afghanistan. Quindi io sono andato in Afghanistan a pianificare la missione e anche lì come eravamo partiti in Iraq da soli poi siamo stati messi sotto cappello NATO così come diciamo e abbiamo pianificato una missione sicuramente molto più articolata ma partivamo da grandi campioni perché dopo l'Iraq dove noi addestravamo l'Iraq in National Police c'era stata riconosciuta proprio dall'allora generale Petreus, generale delle forze americane la leadership in campo mondiale per l'addestramento delle forze di polizia. Una leadership che si è concretizzata anche in territorio nazionale quando il Dipartimento di Stato mi ricordo in una riunione internazionale a New York ci riconosceva la possibilità di aprire un centro di eccellenza e così è stato a Vicenza dove è stato istituito il Coespo per la formazione delle polizie del terzo mondo o dei paesi instabili. Quindi questa leadership che abbiamo proseguito come vedete anche nelle immagini nei paesi instabili cominciando dall'Afghanistan dove lì abbiamo addestrato sia l'Afghan National Police che l'ANCOP, la Civilian Ordinary Police. Due assetti completamente diversi, c'è un assetto squisitamente di polizia e un assetto invece di polizia cosiddetta robusta, cioè antisommossa. Una leadership che sta continuando, l'abbiamo portata in Palestina, l'ho portata in Libia, l'abbiamo portata insomma in tutti i paesi in cui si sono verificati cambi di governo o instabilità e quindi continuiamo in questa nostra competenza di cui siamo profondamente onorati e che svolgiamo nei vati teatri operativi nei riguardi della polizia. Diciamo che la natura dell'arma ci aiuta molto in questo perché noi abbiamo come diciamo sempre una doppia anima, un'anima di polizia e un'anima combat militare, quindi siamo efficaci in quella posizione intermedia tra la fine di un conflitto e l'inizio di un'esigenza di stabilità e di democratizzazione di un territorio. L'altro aspetto che è quello tra virgolette che abbiamo anche un po' pagato in Iraq è questa nostra voglia di stare in mezzo alla gente. Credo che le questioni che portino ai disordini, che portino all'illegalità vadano affrontati alla radice e secondo quello che dice la Nato con un approccio che viene chiamato comprehensive approach, nel senso che quando noi agiamo ormai ale agli acta est, il dato è tratto, quando noi arrestiamo qualcuno ormai è già destinato diciamo alla illegalità e alla criminalità, quindi credo che in questo comprehensive approach sia il richiamo a tutte le istituzioni, non soltanto di polizia ma anche quelle politiche, quelle formative nelle scuole, quelle religiose, verso un approccio che possa portare i giovani o questi paesi ad avere un approccio più democratico, più legale nella loro vita quotidiana e questo è quello che l'arma fa non soltanto sul territorio nazionale ma anche e soprattutto nel territorio internazionale. Un grande elemento di prestigio che vede ora l'arma dei carabinieri impegnata nella pianificazione insieme al Ministero di Difesa è proprio in uno scenario nuovo che si è aperto dopo quello ungherese che è quello tra Israele e Hamas. In questo caso c'è stata una richiesta specifica delle organizzazioni internazionali delle Nazioni Unite affinché l'arma dei carabinieri schieri un proprio contingente che possa arrivare alla pacificazione o comunque all'inizio della stipula di un accordo tra i due paesi che in questo momento sono in guerra. Credo che questo sia il premio internazionale verso un'istituzione che fa della democrazia ma soprattutto della capacità di leggere il territorio in cui vive e della vicinanza al cittadino credo la cifra distintiva che ci onora nel ricordare anche per questo motivo i nostri eroi, 12 eroi che sono purtroppo insieme a civili e anche ai rakeni morti in questo attentato. Il Piemonte peraltro ricorderà domani a Rivalta Torinese e il lunedì prossimo a Nizza Monferrato i due carabinieri piemontesi che sono deceduti in questo tragico evento che sono l'appuntato Filippa e il tenente Cavallaro. Quindi sono felicissimo e ho comunicato alle rispettive famiglie questa iniziativa che lei ha fatto, signor Sindaco, perché anche se sia in territori diversi credo che insieme si fa veramente più lontani, forse da soli un po' più veloci ma insieme sicuramente più lontani e quindi porterò domani il risultato di questo affettuoso consesso ai familiari dell'appuntato Filippa e il 20 anche ai familiari del tenente Cavallaro e quindi io credo che in tutto questo noi dobbiamo fare memoria e la memoria non è un ricordo, è qualcosa di più, è qualcosa che afferisce l'anima, è come la differenza tra sentire e ascoltare. Uno sente, ma ascoltare è quando rende e interiorizza quello che effettivamente la persona che c'è di fronte vuole dirci e così è la memoria. Ricordo un ragazzo a Corleone quando comandavo il provinciale di Palermo e ricordavamo lì le stragi di mafia, non c'è molta differenza insomma, basta pensare a Capaci, sempre una bomba che esplosa e diceva questo ragazzo che frequentava il liceo e ricordava una frase di Saramango che diceva che la memoria, allora la memoria è ciò che noi siamo e la responsabilità che ci assumiamo. Senza memoria non esistiamo e senza responsabilità non abbiamo forse il diritto di esistere. Io credo che questa responsabilità ce l'abbiamo proprio noi che indossiamo un uniforme o una fascia o rappresentiamo comunque lo Stato e credo che questa responsabilità noi ce l'abbiamo soprattutto verso i giovani perché sono loro che rappresentano il nostro futuro e sono loro che dovranno in patria o chi a loro di loro andrà all'estero in qualsiasi ruolo essi possano rappresentare portare i grandi valori di democrazia. Io dico di civiltà e qui chiudo ricordando un altro aneddoto proprio sulla civiltà. C'era un ragazzo universitario che chiese alla sua insegnante, un'antropologa inglese, Margaret Mint, quale fosse il primo segno di civiltà nella storia. E il ragazzo, lo studente, si aspettava che fosse stato un ago per pescare, una pentola, un amo, forse la ruota. Ma Margaret Mint gli rispose in una maniera sbalorditiva e disse che il segno di civiltà, il primo segno di civiltà è stato un femore rotto e poi guarito. Lo studente rimase perplesso e Margaret Mint gli gli spiegò questa affermazione e disse tu pensa milioni di anni fa, un animale ferito ad una gamba che si avvicina in uno stagno per bere, quale possibilità o probabilità poteva avere di sopravvivere a una belva feroce. E pensiamo milioni di anni fa a quell'uomo col femore rotto, quante possibilità poteva avere di sopravvivere se non ci fosse stato qualcuno che lo avrebbe preso in braccio, portato in una caverna, accudito, gli avesse dato da mangiare e poi gli avesse dato il tempo di guarire. Ecco, questo è il segno della civiltà, prendersi cura di qualcuno, prendersi cura di persone come fa l'arma e anche le altre forze armate all'estero o prendersi cura dei nostri concittadini sul territorio nazionale. Credo che questo sia il leitmotiv di quella che è l'azione quotidiana che l'arma svolge in territorio nazionale e in territorio internazionale. E il bello è che noi lo facciamo grazie a voi e insieme a voi, insieme alle forze armate, insieme alle forze polizia, ma soprattutto insieme a tutti i cittadini. Perché io dico che un carabiniere, prima di essere carabiniere, è soprattutto e anche un cittadino. Quindi io vi ringrazio che avete dato a noi l'onore e il privilegio di ricordare 12 nostri eroi, insieme agli altri, delle altre forze armate e ai civili iracheni e portare in un luogo così significativo quello che è appunto la sala consigliare di un comune di così alto prestigio, insieme a tanti primi cittadini, la testimonianza del nostro amore per il prossimo. Grazie di cuore, grazie a tutti.